Ciao a tutti, ben ritrovati e ben ritrovati, iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifiche e lasciate un bel like. Inizia la settimana estremamente importante perché è quella che porterà, nei programmi c'è questa intenzione, alla firma di Tiago Motto sul contratto che lo legherà alla Juventus, sul contratto pluriennale. Vedremo se sarà direttamente fino al 30 giugno del 2027 o se invece sarà un 2-1, poco importa. Ciò che ci interessa e che arrivi poi questa firma, devo dire, come abbiamo già ampiamente raccontato, che il canovaccio è molto chiaro, i tempi sono molto chiari, la Juventus non ha fretta, Tiago Motto si sta godendo anche qualche giorno di meritato relax dopo l'impresa compiuta con il Bologna. Anche lui poi dopo la gara con il Genova aveva spiegato perfettamente che sarebbe andato inizialmente qualche giorno a Barcellona, poi in Portogallo dove vive la sua famiglia, quindi mi sembra tutto estremamente coerente. Però ora iniziamo a fare un pochettino sul serio, iniziamo a parlare più concretamente anche dello stesso mercato. Innanzitutto perché siamo inizio giugno e quindi si può finalmente affrontare questa materia, queste dinamiche che poi dovranno vedere la Juventus estremamente protagonista. Ora, non credo che ci sarà una rivoluzione, io credo che si abbraccerà il concetto di evoluzione, perché la Juventus deve fare tante cose e deve rinforzare sensibilmente l'organico. Ma la curiosità di vedere Tiago Motto e la Juventus ci porta anche a immaginare che, sotto il suo sguardo attento, magari qualche calciatore possa effettuare un deciso salto di qualità o possa esprimere in maniera differente le proprie caratteristiche o, ancora meglio, possa tirar fuori tutto il potenziale. Perché c'è chi continua a sostenere che la Juventus, con un manico differente, quindi con un allenatore con caratteristiche diverse rispetto a Marziano Allegri, possa fare un percorso, non dico migliore perché poi questo decreta sempre il campo, che è il verdetto sovrano, ma c'è chi continua a sostenere che con un allenatore differente già questa Juventus possa esprimersi in una determinata maniera. Vedremo, io sapete che sono contro gli slogan, contro gli, per esempio la famosa frase mai allenati così, insomma, il calcio d'agosto, quello che poi tra un po' vivremo e sempre il calcio d'agosto non ti conosco, quindi ci mancano ancora due mesi per arrivare lì a fare le grilli, a pensare che la Juventus abbia già un certo tipo di passo. Siamo calmi tutti, sicuramente è giusto che ci sia euforia, anche per l'arrivo di un tecnico fresco, un tecnico moderno, un tecnico, speriamo, destinato a fare qui ottime cose. Vi confermo, vi confermo che mi continuo a risultare che Tiago Motta creda già nel potenziale di questo organico. Cosa significa? Che evidentemente si sarà fatto un'idea su che giocatori potranno fare al suo caso e questi giocatori, evidentemente bis, trovano pensiero fertile, terreno fertile nel suo pensiero. Quindi, onestamente, ci vuole molta prudenza, ma ci sono state indiscrezioni, no? Che vedrebbero Tiago Motta, sponsor dei vari Locatelli, dei vari Bremer, dei vari Vlaovic, quindi, no. Tutta gente che, innanzitutto, auspichiamo possa rimanere a Torino, perché incedibili in Serie A non ce ne sono e ve lo ripeterò fino allo sfidimento. Poi, la Juventus, fortunatamente, ha le spalle coperte e non deve vendere i suoi big, ma a fronte di offerte irrinunciabili sfido chiunque a dire di default no. Però, no? Se qualcuno sostiene che Tiago Motta sia l'estimatore di questi giocatori che abbiamo appena citato, beh, soprattutto su Locatelli, questa è la stagione della verità, quella che inizierà per Manuel, perché alla fine della fiera, quando poi non c'è più un tecnico che magari non ti ha sfruttato la dovere e che poi, con lo stesso percorso, ha portato anche al fatto che tu abbia perso la convocazione agli europei e poi arriva il Tiago Motta di turno e non ci sono più scuse per nessuno. O sei da Juve o non sei da Juve. Ho fatto un esempio ora con Locatelli, ma potrei estendere il ragionamento anche nei confronti di altri giocatori e soprattutto, io sto leggendo i campetti che mi scrivete qua sotto, prudenza, prudenza anche in termini di equilibrio. Sono molto curioso di vedere come deciderà di giocare Tiago Motta, se sarà 4-2-3-1, se sarà 4-3-3, poi con lui davvero dobbiamo imparare in primis noi cronisti a parlare di spazi e non tanto di numeri. Però, è vero, mi dicono che sia già, diciamo, nelle primissime idee, ritiene che la Rosa abbia un potenziale da sviluppare. Cioè non è che basti questa Juventus per poi pensare di fare la voce grossa riferimento all'Inter in Italia, appunto con i nerazzurdi. Ma avrei delle idee chiare. È cosa buona e giustissima. Ma altra conferma totale su Di Gregorio, lui nelle idee è il portiere titolare. Poi qualcuno lo dovrà spiegare a Scesdi, ma credo che Gomotta in questo abbia personalità da vendere. Ed è altrettanto normale che la Juventus tenti di piazzare il polacco per liberare spazio salariale. È normale che sia così ed è corretto il ragionamento ideato degli uomini della continassa. Cioè mettere Di Gregorio, costruire quindi il post Scesdi, magari tenere come secondo Mattia Perin, un portiere della grandissima credibilità e da rendimento sempre redditizio, e quindi in termini di strategia proprio di mercato questo è giusto, è giustissimo. Però va convinto Scesdi e io continuo a sostenere che sia estremamente complicato. Estremamente complicato per l'ingaggio, per il suo rapporto con la Juventus, per il suo rapporto con la città, per, per, per. E quindi sono tutte cose che fanno pensare anche a chi magari non è esperto di mercato, che sia più semplice a livello di ingaggio trovare una sistemazione Perin, che alla fine della fiera potrebbe diventare il punto di incontro per fare in modo che tanto prendi Di Gregorio che in posta in determinata maniera, e se ho ben capito Tiago Motta vuole proprio partire dalle basi. Cioè noi quando parliamo della spina dorsale, portiere, difensore centrale, il giocatore che dovrà agire davanti alla difesa, o i due che dovranno agire davanti alla difesa qualora si giocasse appunto con due interpreti, l'attaccante, cioè lì che si fanno le squadre. Lì che le squadre poi iniziano ad avere un senso logico, e infatti parliamo di una Juve su Di Gregorio, che ha la Fiori, che vuole provare a rigenerare Locatelli, che punterà molto su Vlaovic, insomma. No? Sono idee molto chiare. Quindi, countdown, countdown per la firma, per quanto riguarda l'annuncio vediamo, se ho novità ovviamente le condividerò con voi come sempre qua sul mio canale, ma sì, questa è la settimana della firma, vediamo come avverrà, se ci saranno dirigenti a Juventus che andranno in Portogallo, se invece avrà fatto tutto ormai come si fa tramite PEC e quant'altro, però iniziamo a scaldare i motori, iniziamo un pochettino ad arrivare col giusto spirito a questa pre-season, che a parte vogliamo che inizi già magari domani, dopo domani, prima faccio riferimento al calcio d'agosto, non ti conosco, anche se poi nel calcio d'agosto, ormai partendo sempre prima, sempre prima, bisogna fare punti importanti, però ecco, chiudo dicendo che sarà fondamentale il precampionato per Tiago Motta, perché sarà l'unica possibilità in cui potrai incidere sensibilmente nelle caratteristiche dei calciatori, nella sua idea, trasmetterla al gruppo, perché poi giocando ogni cinque giorni, ogni sì, cinque giorni, ogni tre giorni, in cinque competizioni, non ti alleni più, non ti alleni più, e lì sono dolori, se non si è fatto un lavoro oculato in estate.